Per avere un allenamento completo avete bisogno di esercizi cardio e sollevamento pesi che richiedono delle ore in palestra. Ma ora c'è una macchina che combina l'allenamento brucia calorie cardio con i movimenti di tonificazione muscolare. Per regalarvi il corpo snello e scolpito che amate è MaxiClimber, l'innovazione fitness che vi farà arrampicare verso braccia toniche e armoniose. Scalate la vostra strada verso addominali duri come roccia e sexy, arrampicatevi verso un fondo schiena meraviglioso e gambe più snelle e proporzionate. Una sola attrezzatura che coinvolge la parte superiore ed inferiore del vostro corpo è il tronco. Per un massimo allenamento in pochissimo tempo, il tutto quando volete voi è nel comfort di casa vostra. Seguiteci per scoprire perché MaxiClimber è più efficace di affondi e squat e scoprite perché i professionisti del fitness di tutta l'America raccomandano MaxiClimber per un allenamento perfetto. Venite con noi a South Beach e guardate come i corpi più forti di Miami sopravvivono alla sfida del MaxiClimber Challenge. Incontrate le nostre gemelle e guardate come MaxiClimber supera tapirulane ciclette nel bruciare calorie. Con MaxiClimber ogni passo che fate è un passo più vicino al corpo dei vostri sogni. Quindi se siete pronti per l'arrampicata della vostra vita, rimanete con noi per conoscere MaxiClimber e qui per raccontarci questo nuovo meraviglioso fenomeno del fitness abbiamo il celebre esperto nell'allenamento Mark Harari. Salve, sono Mark Harari e sono qui per parlarvi di MaxiClimber, una scoperta fondamentale nella tecnologia del fitness che usa virtualmente gli stessi movimenti fatti dai rocciatori. E con me oggi c'è l'esperta di arrampicata su roccia, Alice Reitveld. Alice, scendi! Grazie, Mark! Alice è una scalatrice professionista che ha lavorato come stunt per alcuni dei più importanti registi di Hollywood per oltre 10 anni. Ha arrampicato ovunque nel mondo, dall'Asia all'Africa e anche in Sud America. Benvenuta, Alice! Ciao, Mark! L'arrampicata su roccia è il migliore allenamento completo, che interessa la parte superiore del corpo, quella inferiore e il tronco contemporaneamente. E ora per la prima volta puoi effettuare lo stesso incredibile allenamento nel comfort di casa con MaxiClimber! MaxiClimber imita il naturale movimento del corpo durante l'arrampicata, permettendo un allenamento intenso dalla testa ai piedi. Controlliamo son. Come potete vedere, MaxiClimber sta coinvolgendo le sue braccia, le sue spalle, i suoi dorsali e la sua schiena a ogni passo che fa. E Christine, qua giù, guardate com'è forte il suo tronco. Sta interessando i muscoli ad ogni passo con MaxiClimber. Si sta assicurando addominali duri come roccia. Si stanno allenando per avere dei glutei sodio e scolpiti e gambe snelle e toniche. MaxiClimber usa semplicemente la resistenza del peso corporeo, coinvolgendo i maggiori gruppi muscolari. È un attrezzo completamente integrato che tonifica i muscoli e permette un ottimo allenamento cardio. MaxiClimber può offrire un allenamento intenso e completo. Non perderete più tempo per guidare fino in palestra e saltare da una macchina all'altra. Esatto, puoi fare un'ora sul tapis roulant, 30 minuti di pesi e altri 20 minuti per gli addominali. Chi ha tempo per questo? Ora puoi scalare la vetta per un corpo migliore, più sodo, più sano con MaxiClimber. Posso usare a lungo questo attrezzo e allenarmi e non mi ha mai danneggiato la schiena o le ginocchia. Ho potuto fare tutto l'allenamento. In dieci settimane sono passata da una taglia 44 ad una 42. Ho perso circa 9,5 kg, 30 cm circa. Sono entusiasta, sono felice! Quando mi alleno con il MaxiClimber riesco a fare esercizio senza annoiarmi. Puoi variare i movimenti per modificare l'esercizio nel corso di allenamento e continuare ad allenarti usando il MaxiClimber. Mi sento molto meglio e sono in grado di guardarmi allo specchio, guardarmi in foto e sentirmi davvero bene con me stesso in generale. MaxiClimber è semplice e un allenamento completo. MaxiClimber mi ha aiutato a tornare come volevo essere e so che posso ancora migliorare, ma sono sicuro che MaxiClimber possa aiutarmi ad arrivarci. La maggior parte degli esercizi che acquisti in televisione sono difficili da fare. MaxiClimber è facile ed efficace. Non importa se ti alleni per la prima volta, se lo fai occasionalmente o se sei un patito della palestra, MaxiClimber è un modo divertente e facile di rimanere in forma.